Como-Verona, 3-2, Cutrone-Cutrone-Belotti-Lazovic-Lambur, seconda vittoria consecutiva per il Como che sarà a quota 8 punti in classifica, decimo posto, terza sconfitta invece di fila per il Venezia che rimane fermo a 6. Che partita è stata? Allora, è stata una partita tra due squadre estremamente diverse innanzitutto, perché proprio agli antipodi potremmo dire, ormai il Como di Fabregas l'abbiamo imparato a conoscere, in senso di una squadra totalmente posizionale, appunto che cerca molto col palleggio di arrivare ai limiti dell'area e poi entrare eventualmente nell'area avversaria. Quindi è una squadra caratterizzata da grande mobilità, soprattutto nel pacchetto offensivo, perché appunto Cutrone, che sta funzionando molto bene in questo avvio, gioca spesso anche defilandosi da ala, favorendo quindi i movimenti centrali, per esempio di Nicopas, che ieri ha fatto un'altra partita straordinaria, ma anche appunto Strefezza, anche lui di grande partita. Quindi questa squadra che non dà molti punti di riferimento contro un Verona che ovviamente, essendo classica squadra da difesa 3, diciamo intensità, ripartenze, anche una squadra che ovviamente fa delle marcatura uomo, uno dei suoi punti focali. E quindi appunto fin dall'inizio si è visto chiaramente quale delle due squadre volesse tenere il controllo del pallone e quale invece preferisse starsi anche nella propria metà campo, eventualmente ripartire. Il Como è iniziato aggredendo anche abbastanza alto per cercare di schiacciare il Verona ed effettivamente la squadra di Zanetti all'inizio è stata abbastanza in difficoltà, anche perché poi quando il Verona voleva costruire dal basso i due play, cioè Dani Silva e Belaian, non sono riusciti appunto a far uscire molto bene la palla e quindi sviluppare la manovra, per quanto Belaian resti un giocatore che abbiamo detto molto interessante, ieri appunto è andato un po' in sofferenza. L'attacco appunto del Como non dava riferimenti e palleggiavano molto bene nello stretto, anche con dei inserimenti in accompagnamento di vari giocatori che appunto si portavano dentro l'area, per esempio quell'occasione clamorosa di Sergio Roberto che in qualche modo non ha segnato, appunto è un esempio proprio limpido di questo, è un'azione molto molto ben condotta e il Verona si è abbastato veramente molto e ha rischiato più di una volta di subire il gol, non mi ricordo chi ha preso il palo nel primo tempo, credo, forse, vabbè non mi ricordo, però appunto ha sfiorato più volte il vantaggio e il Como e alla fine l'ha trovato con anche una conclusione sporca in realtà di Cutrone, servito appunto in posizione d'ala, quindi ancora una volta la sua mobilità è appunto abbaffato poi Montipò con quel tiro deviato, nel secondo tempo è cambiato l'atteggiamento perché il Verona è tornato con maggiore intensità, Zanetti ha cambiato anche modulo, ha votato per un assetto molto spregiudicato perché ha messo Moschera insieme a Tankstead, quindi ha fatto quasi una sorta di 4-2-4, tra l'altro aveva anche scelto di giocare a 4 in realtà, quindi ha detto un po' una cavolata all'inizio perché appunto ha approvato questo nuovo assetto, però appunto i principi ovviamente rimangono quelli, quindi il Verona ha riempito meglio l'area di rigore e su un taglio di Lazovic diciamo da un esterno all'altro dentro l'area si è procurato appunto il servo e il rigore e ha trovato poi l'1-1 con quella realizzazione dal dischetto, il Verona in quel momento sembrava quasi aver ribaltato un po' l'inerzia della partita, infatti lo stesso Lazovic ha rischiato di portare in vantaggi suoi con un altro inserimento in aria, ha cambiato molto la partita il rosso a Suslov che ovviamente è estremamente discutibile perché non sarebbe neanche veramente fallo. Vabbè, volevo chiederti il parere su questo, dicevo che già hai espresso la tua opinione. Sì, sì, mi sembra, ma mi sembra abbastanza... Sì, credo che però ci sia il classico inghippo per il fatto che non possa intervenire il VAR perché è doppia munizione... E comunque su questo forse credo che bisognerebbe anche cambiare la cosa perché alla fine il secondo giallo... Cioè io capisco il primo giallo, ma se c'è un doppio giallo... Esatto, è un elemento che condiziona la partita ugualmente a un rosso diretto quindi non vedo perché non possa essere un errore grave e in quel caso è un errore grave che spegne in qualche modo l'inerzia del Venezia e riporta il Como... Il Verona? Sì, 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 no, porta il Verona in dieci ma riporta appunto il Como a fare la partita con maggiore fiducia posto che secondo me il Como ha comunque meritato ampiamente di vincere nel primo tempo poteva segnare molte più volte di quanto abbia fatto con il tiro di Cutrone e questo ovviamente è una caratteristica anche del Como che stiamo vedendo che ovviamente non ha un pacchetto offensivo di campioni che finalizzano ogni occasione in modo perfetto però sicuramente è un campione tra tre quarti attacco perché Nico Paspo inventa quel pallone straordinario per Cutrone anche Cutrone fa un grande gol perché la mette veramente molto bene all'angolino con quel tiro diciamo a semi a giro e dall'in poi di fatto il Como ha controllato la partita ha trovato anche il primo gol Belotti con una bella azione diciamo dopo una parata di Montipò non perfetta se non altro il Verona ha dimostrato comunque di essere sempre dentro le gare infatti è riuscito anche a riaprirle in 10 con una bella sgruppata di Chachua che mette dentro per appunto quel giocatore di cui ho già dimenticato il nome perché non avevo mai sentito fino a ieri Sambuco, ma è un 18enne che arriva dalla primavera Sì, era la seconda partita Il Nizza mi sa vabbè comunque da una squadra francese adesso non ricordo proprio te lo dico Vabbè sì, era la seconda partita in Serie A quindi appunto ha trovato quel gol quindi anche lì da registrare comunque certe amnesie difensive del Como ma in conclusione è partita abbastanza dominata a parte quella fase diciamo inizio secondo tempo ovviamente il rosso condiziona però partita diciamo vittoria meritata da parte della squadra di Fabri Sì, primavera del Renno comunque, non del Nizza, scusate No, io sono d'accordo con te poi è chiaro che magari il Como la vince comunque è meritata eccetera però intanto fargli giocare in 11 contro 11 e poi se ne parla chiaramente questo va detto per correttezza però effettivamente per quello che abbiamo visto insomma il Como ha fatto un'ottima partita devo dire una cosa devo fare un'ammissione di colpe per quanto riguarda un giocatore del Como in questo momento cioè non avrei dato una lira come ho scritto anche nel gruppo a Cutrone che torna in Serie A non ci avrei mai creduto non avrei mai creduto in un impatto così non avrei mai creduto potesse fare così bene e invece secondo me ha fatto ci sta facendo molto molto bene ed è in grande merito secondo me va dato a Fabri a Sinquest per come sta esatto no ma era dato per spacciato da tutti Cutrone io invece non voglio fare il Mr. Capisce però secondo me Cutrone e Belotti era un attacco comunque da Serie A cioè al di là di il discorso è che su Cutrone ora chiaramente perché comunque ha una nutrita schiera di fan Cutrone e quindi ci sono quelli che ti vengono a parte tu ora con questo momento no beh io non sono un fan neanche particolarmente no si si dicevo in generale vengono tutti fuori quelli dicono eh l'avevo detto che Cutrone era forte beh ora non è che Cutrone ha sempre fatto bene veniva da delle stagioni terribili eccetera quindi ha dato dei motivi per dubitare di lui ecco non è che fosse casuale la critica però effettivamente sta facendo bene per cui ottimo su Belotti dico che l'inizio di stagione invece è stato molto negativo e molto deludente però si è sbloccato quindi magari chissà può essere un fattore anche solo dalla panchina per il come potrebbe essere importante e e visto che ne abbiamo parlato tutti male anche giustamente criticandolo voglio spezzare comunque una lancia visto che solitamente abbiamo solo spezzato bastonate sulla gobba in questo inizio di stagione spezzano la lancia in suo favore dicendo che comunque con quello di ieri sono 113 gol in Serie A non so quanti giocatori cioè sono numeri importanti comunque per Belotti il problema di Belotti è che è un giocatore veramente vistosamente in calo da anni ormai quindi quindi chissà cioè è durato poco paradossalmente sì è durato poco vabbè se volevi leggere no no venerdì eppure sono sicuro che venerdì ci fa un piccolo scherzetto il Como occhio alla squadra di Fabricas sono d'accordo infatti come dicevo ieri cioè non sulla prima parte sono d'accordo sulla seconda occhio alla squadra di Fabricas come dicevo ieri il Como è un po' una finta squadra che lotta per non retrocedere nel senso che già ha le qualità per essere una squadra che si salva tranquillamente può essere un po' una mina vagante del campionato comunque sono andato a cercare il calendario perché non sapevo a cosa ti riferissi Napoli-Como quindi chissà non lo so perché comunque al San Paolo vabbè vedremo dopo parliamo anche del Napoli e quindi questo non so se c'è altro da aggiungere sul Como sul Verona non ci abbiamo detto tutto un nome che non ho fatto fino ad ora è quello di Fadera che comunque forse non so quando ne parlo sì settimana scorsa ne abbiamo parlato quando l'Atalanta ne avete parlato immagino ha fatto anche oggi una grande partita un nome che è apparso praticamente dal nulla nei cento giocatori comprati dal Como quindi non mi aspettavo chissà che perché appunto non lo conoscevo e invece sta veramente dando tanto in termini di di spunti offensivi di velocità della manovra insomma è un giocatore molto interessante quindi anche qui è una buona pescata dal Como meno altisonante ma che sembra molto funzionale al gioco dei appunto dei Lombardi un giocatore un giocatore